Benvenuti su Meteo Giuliaci, il tempo previsto per martedì 31 gennaio, ebbene ancora un'altra giornata di tregua tra la perturbazione giunta sabato e la nuova perturbazione attesa con il suo carico di pioggia tra il 3 e il 5 di febbraio. Bene, ma vediamo in dettagli allora come sarà la giornata di martedì, bene nubi come vedete al centro nord e sulla campagna, delle piogge sulla Liguria, all'Alta Toscana, all'Umbria, all'Anzio, il Molise e il Gargano, temperature in rialzo sul nord Italia e sulla Puglia. In compenso non vi saranno gelate, dopo 30 giorni consecutivi di gelate su gran parte del centro nord e questo sarà il primo giorno in cui probabilmente non vedremo gelate non solo al nord ma nemmeno al centro. Bene, termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.